Sono felice di poter presentare Ermano Arzan, conservatore del Museo Civico di Rivia Sono, che collabora con l'associazione e con il Gralla, di cui faccio parte. È una persona che ha una storia di studi che sarebbe difficile ricapitolare e che sicuramente ha contribuito a definire la prospettiva attuale sui temi di cui ci parlerà questa sera. Attualmente mi associo nazionale dell'Accademia dei Lincei e da nostro amico da tanti anni ormai. Vecchio amico. E quindi, vecchio ma sempre, dai sempre una prospettiva, insomma... Giovanile. Insomma, è sempre un piacere ascoltarti. Beh, speriamo. Grazie per la tua presentazione. Grazie. Dunque, oggi probabilmente vi è rappresentato il mondo celtico padano della Cisalpina. in termini forse diversi da quanto vi attendete. Infatti sono reduce dalla pubblicazione di un lavoro che è stato abbastanza pesante, che verteva soprattutto su Celti, Liguri di Genova ed Etruschi. e sto finendo, sto completando le note proprio di un altro lavoro che invece si tenta di chiarire alcuni problemi, alcuni nodi storici, più che archeologici, che a me paiono particolarmente interessanti e importanti, relativamente al confine alpino dell'Italia, della Cisalpina, e alle popolazioni celto, retiche, Liguri, che occupavano l'area alpina e prealpina a sud delle Alpi e soprattutto con attenzione ai loro rapporti con i gruppi celtici indipendenti della Transpadana, tanto per intenderci la pianura a nord del Po, dopo la guerra annibalica e i romani che si erano, nel secondo secolo, si erano fermati all'altezza del Po. È una tematica estremamente complessa, abbastanza poco battuta, a mio avviso invece molto, estremamente importante, che solamente nell'enunciazione ha proposto un dato, una persona, anzi, un volto. È molto importante. Il mio discorso per il 50% verterà su Annibale, quindi sul rapporto di Annibale con i Celti, e quindi dei Celti con i Romani e con gli Italici, che normalmente non vengono presi in considerazione. Ma per introdurre il discorso direi che cominciamo a partire con le immagini. Evidentemente ci vogliono i precedenti. È l'unico precedente che può esserci. No, andiamo avanti. Ecco, questi sono loro, presentati in un'immagine consueta, diciamo, non del tutto fedele, ma suggestiva. Ecco, andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo presentata la situazione tardo-alstatiana. Alstat è un paesino su un lago nel Vorarlberg austriaco, con delle miniere di sale, dove ci sono i documenti di una cultura, che noi definiamo cultura di Alstat, che è evidentemente si articola nella prima età del ferro, cioè praticamente nel prima metà del primo millennio avanti Cristo, un po' tutta Europa. Qui evidentemente avete un'immagine dove vengono indicate le aree, dove noi possiamo seguire l'articolazione della cultura di Alstat, che è molto complessa. L'articolazione della cultura di Alstat che ha avuto anche rapporti molto stretti con la situazione dell'Italia settentrionale, evidentemente. Quindi dovrebbe iniziare un discorso molto lungo, che riassumo in termini molto semplici, in termini elementari, indicando che la derivazione, lo sviluppo della cultura di Alstat nella cultura che noi definiamo cultura di Latenne, è un dato assodato e base, basilare, per i nostri studi. Cultura di Latenne perché? Perché nel cantone di Neuchâtel, nel lago di Neuchâtel proprio, abbiamo un sito, l'Aten, è un sito di palude fondamentalmente, e dove c'è una documentazione santuariale, in quel caso, con deposito di armi e di decorazioni, che è molto tarda rispetto al nostro discorso, ma che è stata la prima ad essere stata scoperta dai colleghi d'Oltralpe nell'Ottocento, e che è stata la cultura eponima delle culture celtiche della seconda età del ferro, cioè in pratica dal V secolo, tutto compreso il V secolo, fino alla romanizzazione, che però ci introduce in un discorso particolarmente complicato. Ma andiamo avanti, ecco qui vediamo nell'immagine di sinistra, è quella che oggi consideriamo l'estensione massima raggiunta dalle culture, perché attenzione, non parliamo di culture, discorso molto più complicato di quanto può sembrare, culture lateniane di Latenne, intorno al III secolo a.C., nel III secolo a.C. inizia una progressione di crisi e di riduzione anche territoriale della presenza culturale lateniana, con una progressione che continua fino ad oggi. Se noi ci spostiamo a destra, vediamo le uniche situazioni territoriali dove sono presenti parlanti lingua celtica. Noi abbiamo la Scozia, saranno, sembra, 200-300 mila anime che parlano celtico, vediamo l'isola di Manchek, dove però sembra che sia scomparsa, vediamo il Galles, dove invece sono quasi un milione nel Galles, con anche velleità indipendentista, tra l'altro. Vediamo la Bretagna, che ha però 30-40 mila parlanti celtico, con un esercito segreto di liberazione. Anche loro facevano gli attentati a suo tempo. I Bretoni sono gli eredi dei celti dell'Inghilterra che si sono trasferiti, seguendo l'esercito romano, sul continente all'inizio del V secolo d.C. e sono rimasti là. E poi basta. Tutto qui. Questi sono quanto rimane della cultura celtica. Naturalmente noi abbiamo, se noi ci spostiamo a livello culturale, le cose possono essere molto diverse. La cultura degli Stati Uniti oggi è intrisa di tradizioni celtiche, parte del fatto che i celti sono presenti episodicamente in Irlanda. In Irlanda sul celtismo si regge il nazionalismo, anche se parlano inglese, meglio degli inglesi. Tra l'altro gli irlandesi hanno San Patrizio che è il santo nazionale e la cattedrale di New York si chiama San Patrizio. Questo dice tutto. Ma andiamo avanti. Sto parlando già troppo dei celti nostri. Che succede? Succede che a questo punto inizia un discorso storico. Succede che nel fine del quinto o inizio del quarto, secondo me fine del quinto, i gruppi celtici già latiniani, quindi con questa nuova cultura, che è una cultura egualitaria, c'è un popolo guerriero che si governa a livello assembleare e che fondamentalmente riscopre una dimensione nomadistica, i celti della Gallia, cioè della Francia, vivono un momento che alcuni di noi vedono di grande sviluppo demografico, altri vedono invece di crisi ideologico-religiosa e cominciano a muoversi in tutte le direzioni. Una di queste direzioni è l'Italia. La leggenda di Belloveso che scende in Italia. Siamo sicuramente alla fine del quinto, attenzione quasi tutti i miei colleghi parlano dell'inizio del quarto e mentono perché arrivano prima, e occupano il territorio italiano ad ondate successive. Sono popoli diversi, sarebbe troppo lungo parlarne. L'ultimo, il primo, è rappresentato dagli insubri, in pratica, che tra l'altro si discute perché forse erano già arrivati prima. Comunque questi sono discorsi molto complessi. l'ultimo ad arrivare è quello dei Senoni, che vengono probabilmente chiamati dai celti che già sono in Val Padana fondamentalmente, passano in Emilia, scendono lungo la costa adriatica e penetrano attraverso il corridoio da dove c'era già Ravenna e si dirigono verso Roma. ed è la storia di Brenno, la quale non insisto, la discesa non è di saccheggio, è la ricerca di sedi. Scendono per e chiedono della terra, si fermano a chiusi, vengono accolti male da chiusi, chiusi, chiedono aiuto, chiedono di avere un'assistenza di conciliazione dei romani che avevano da poco conquistato dove io erano in espansione e i romani mandano i loro, diciamo, primi potenziali a chiusi, celti e chiusini litigano fra di loro, i romani prendono la parte dei chiusini e i celti la prendono male, la prendono tanto male che scendono a Roma, saccheggiano Roma, probabilmente la beccano tutta, anche se i romani poi hanno costruito tante storie, le ocche del Campidoglio, eccetera, eccetera, e poi però si ritirano e rimangono nell'area, nel Lazio, arroccandosi verso sud, verso la zona di Capua e lungo la linea della via, quella che diventerà la via Appia, poi ritornando tutti gli anni a combattere le porte di Roma, ed è una specie di incubo che viene risolto poi però poco per volta. Questa penetrazione è una penetrazione che giunge fino al sud, per esempio noi abbiamo un meraviglioso documento in una sepoltura di eccellenza a Canosa, che ha restituito prodotti come questo, questo è un elmo che è nel museo di Berlino e che proviene da Canosa. Siamo a metà del IV secolo avanti che questo, ma andiamo avanti, perché il discorso ha questo punto. Risolto il problema dei... primo contatto con i celti, i celti e i romani, ho detto che avrei parlato di questo, i romani si impegnano nella messa sotto controllo veramente dell'intera Italia centrale ed è un seguito in un certo senso della liquidazione del pericolo gallico, del pericolo celtico. si sentono sicuri e allargano il loro interesse soprattutto verso l'interno, l'interno sannitico. E lì è una serie intorno agli anni 340-330 avanti Cristo, una serie di guerre estremamente dure, estremamente feroci, con i sanniti, qui vedete una immagine fatta da loro, dei sanniti. Si dovrebbe fare un lungo discorso su quelle immagini e si vede la progressione dal rosso al giallo nel corso del IV secolo e della prima metà del III secolo alla conquista e al controllo dell'Italia, della penisola. Devo dire che qui devo subito dire, attenzione, non è che gli archeologi lavorino sempre bene, perché una situazione come questa non esiste. Questo viene dopo. Comunque, lo dico perché adesso cadiamo proprio in quell'area territoriale. Andiamo alla prossima. Ecco, qui vediamo la zona della Campania e del Lazio Meridionale interessata dalle guerre dei sanniti. Andiamo avanti. All'inizio, ecco qui, si prosegue dall'inizio. Napoli rimane sempre fuori. Napoli rimarrà sempre un alleato dei Romani in tutte le guerre che vengono fatte in Italia centrale e centro-meridionale nelle guerre di età repubblicana. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo la definitiva conquista del sannio che praticamente liberava, ed è molto importante questo, liberava il percorso per l'Adriatico. È la strada della Via Appia che appunto nasce in quel periodo. ricordiamoci che tutte le guerre dei Romani sono fatte in preparazione di meccanismi di espansione. Vedremo di preparazione anche con forme estremamente dure di pulizia etnica, nel vero senso della parola. Ma cosa succede a questo punto? Succede che nell'espansione verso l'Adriatico, dimenticatevi questo nemmeno avanti, in pratica i Romani si trovano ad affrontare i Senoni, quelli stessi che erano stati a prendere Roma, e combattono i Senoni. Nella fine del IV secolo e dell'inizio del III, i Senoni vengono sconfitti e viene acquisito il loro territorio. Deducono Senigallia. La deduzione di Senigallia è del 283 a.C. Ma si va ancora avanti e i Romani risalgono la costa ed educono Rimini. Chiaro che Rimini si apre sulla pianura. Rimini è la preparazione per la conquista dell'Italia settentrionale. Il mondo celtico non poteva prenderla bene. E nel qualche tempo dopo, intanto i Romani si collocano a Genova, praticamente organizzano un discorso a Tenaglia per stringere il mondo celtico e conquistarsi la Valle Padale. E a questo punto che succede? Succede che i Galli si organizzano. Si organizzano e viene creata una una lega militare che coinvolge tutti i nemici in quel momento attivi contro i Romani e quindi ritornano ci sono i Veneti e tutti i vari gli Umbri gli Etruschi e c'è un scontro a Talamone. Talamone dov'è? Andiamo avanti che dovremmo trovare. No, qui discorso di Capua. Comunque Talamone è nel nord del Lazio e sulla costa del Lazio. A Talamone c'erano dei fatti che diventano molto importanti per noi. I Celti soprattutto Insubri e Boi cioè gli Insubri nella zona di Milano nel vero senso della parola e i Boi invece nella zona di Bologna in Emilia sono vinti. Ma un anno prima questo ce lo raccontano i Romani e gli scrittori latini gli alleati contro Roma avevano chiesto aiuto ai loro fratelli d'Oltralpe che scendono in Italia e scende questo gruppo si parla di 30.000 individui armati che vengono definiti dai Romani i Gaesati i Gesati quelli che portano Gaesum cioè quel tipo di spada chiamato Gaesum e Gesati su questi si discute da dove venivano. Devo dire che io sono stato il secondo collega francese aveva accennato alla possibilità a rifiutare la provenienza dalla Gallia dalla parte celtica occidentale del mondo gallico della Gallia e mi sono accorto di un fatto molto importante vediamo la prossima ecco qua parlavo di Capua comunque naturalmente sono andato per i fatti miei e andiamo avanti ecco qui vedete Capua torneremo dopo su questo andiamo avanti andiamo avanti come vedete cose che ho già detto ecco a Campiglia Marittima a qualche decina di chilometri a nord di Talamone che sul è stato scoperto un nucleo di monete tori monete che quando io ero studente non si sapeva neppure cosa fosse poi evidentemente per noi comunichiamo e è risultato una cosa sconcertante quelle monete sono che tra l'altro venivano prima datate due secoli dopo quella data che adesso viene proposta sono le monete di una popolazione ben nota del lanza del Danubio siamo quella che poi diventerà la Pannonia Bohemia Ungheria e quelle monete sono emissioni boiche sono le emissioni dei parenti dei boi che già erano in Italia a questo punto cosa succede insieme vediamo intorno se hanno lasciato se sono loro e se hanno lasciato questa altra e a Parma ho trovato questa moneta vediamo ora però se è ingrandita ecco questa moneta ed è uno statere statere è un tipo di moneta d'oro boica ma boica transalpina con l'Athena Alkis l'Athena con la veste a destra e sinistra armata e aggressiva che ripete un tipo del re di Macedonia perché i boi della dell'area boica transalpina facevano i mercenari nel terzo secolo del regno di Macedonia ci andavano a combattere nel mediterraneo evidentemente al soldo del re di Macedonia e quindi imitavano le monete perché queste sono monete loro non del re di Macedonia imitavano nelle monete loro i tipi del re di Macedonia e a questo punto mi sono detto beh a questo punto sono i gesati ma vengono veramente i gesati dalla Francia? no vengono dalla Poemia o dall'Ungheria e dove vanno a questo punto? e ho un'altra traccia perché nelle fonti romane si dice che nella battaglia di Casteggio Clastidium 222 a.C. perché i romani li inseguono dopo dopo Talamone inseguono i nemici lungo l'Italia sono presenti i gesati e a questo punto rimangono e a questo punto mi conviene torniamo indietro un po' di immagini racconti chiedo scusa ma certe volte le storie si incrociano e il discorso diventa molto complicato andiamo avanti ancora ecco andiamo avanti no avanti vediamo dove acchiapparlo no avanti avanti succede questo avevo lasciato super non avevo parlato di un fatto molto interessante nella seconda nella 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 scesa nel diciamo nel controllo progressivamente assunto dell'Italia da parte delle strutture galliche e anche greche della Gallia Marsiglia noi abbiamo una situazione monetaria che vede il mondo soprattutto boico in un certo senso inserito nel sistema monetario di Marsiglia e dell'Occidente e abbiamo altri fenomeni monetari molto interessanti nel sud in Italia centrale abbiamo visto come il i Romani si con la guerra con le guerre sannitiche giungono al territorio di Campano della Campania settentrionale vediamo l'immagine con Cuma indietro 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 no no indietro ecco questa questa è Caserta questa è Santa Maria Capovettere dunque questa è la città che ha che pretendeva di competere con Roma è la città dove Annibale pose l'accampamento non per farsi gli ozzi ma per conquistare Roma quindi un pochino diverso e questa città è al centro di una serie di altre città c'è 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 a cuma e cuma però che viene conquistata dai romani con le guerre sannitiche e che diventa colonia romana colonia romana intorno agli anni 330 circa e insieme con cuma diventano con capua voglio dire però parlando di capua diventano colonia romana anche cales su essa a qui non tutta una serie di città intorno che cosa avviene avviene qui si saldano le 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 storie avviene che quando annibale arriva in campagna arriva prima in puglia pincia canne e tutte le città che erano state trasformate in colonie latine e romane insorgono e fra queste città cumma prende il comando ed è per questo che annibale arriva a cuma in e prima che in altri luoghi per preparare l'attacco a roma e tutte queste città riprendono il diritto a battere moneta e una questa moneta di di capo che discorre parlo sempre di come questa moneta di capo a quello è l'anfiteatro di di capo a che era più grande del colosseo quindi andiamo avanti qua ecco abbiamo queste monete questi centri su essa su esano caleni cales che sono centri che si organizzano in un in un patto monetario e emettono tutte la stesso tipo di moneta solo con l'etnico differente quando siamo qui sappiamo benissimo che non siamo siamo fra il 216 e il 212 cioè nel periodo in cui roma perde il controllo di quest'area e che rigono questo tipo perché lo scelgo ecco è un tipo raro e l'ho trovato solo in un luogo strano in battriano 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 e l'afghanistan fondamentalmente che cosa succedeva in quel momento in battriano in battriano un dinasta se le uccide che se le uccide che dominano quella zona che si era reso indipendente deve affrontare una popolazione siberiana che scendeva dalla siberia che poi erano i parti quelli che poi diventano il bar e ovviamente i greci non combattevano direttamente i greci combattevano con mercenari e la tradizione campana era una tradizione mercenaria le e le monete che vengono battute dal in battriano siamo nel 335 3 235 230 avanti cristo hanno il galletto e il la pena dall'altra parte tornando a casa i mercenari tornava sempre a casa viene fatta come moneta federale fra di loro tipo della moneta federale e quella della minerva e del galletto e del sole l'astro il galletto è quello che canta la libertà ancora oggi in francia e questo il sole l'astro e e annibale chiaro il discorso ma comunque questo preparare il discorso che verrà dopo perché andiamo al questo è lo sviluppo del della conquista celtica ma di questo abbiamo già parlato diamo avanti questa è la moneta di tipo marsigliese che diventa la moneta tipica nel quarto terzo secolo dei boi dell'emilia questo dato che solamente vent'anni fa noi non conoscevamo andiamo avanti diamo avanti ecco arriviamo a danibale che aveva annunciato qui abbiamo la situazione della che esce dalla prima guerra pubblica che poi si sviluppa andi a quella conquista diciamo la presenza punica in spagna in umidia e in africa e ricordiamoci che annibale non era mai stato prima di zama a cartacini era sempre stato in spagna andiamo avanti e abbiamo l'esperienza dei di annibale vedete la strada che fa passa probabilmente probabilmente al monginevro e scende e poi c'è tutta la vicenda qui vedete capua tutta la vicenda fino al ritorno a zama andiamo avanti eccolo qui siamo avanti e ecco qui il percorso è meglio individuato e vedete che percorre diciamo scende dal ticino scende sul po sul po scende e si incontrerà con i romani scontrerà con i romani dopo il la battaglia del ticino con la battaglia di zama con la battaglia della trebbia che cosa succede alla trebbia beh annibale sta meditando di aggirare i romani leggendo libio così capisce subito scendendo attraverso il salendo dei fiumi che scendono nel piacentino e scendendo sulla spezia sulla zona di chiaveri o sulla spezia per poter scendere lungo in toscana attraverso la costa tirano e li va male li va male perché viene praticamente è travolto dal fiume a problemi di carattere naturale siamo d'inverno ricordiamoci annibale deve passare il le alpi deve passare l'inverno perché il impegno come quello di una traversata in montagna allora poteva essere fatta solo in inverno perché in inverno il terreno è solito in primavera autunno tanto più in estate i fiumi torrenti sono in piena c'è in pianura e sono le paludi c'è la malaria gli alberi hanno le foglie attenzione quindi ci si muove male e e tutto diventa più difficile e la vita anche delle popolazioni scandinave prima della dell'età moderna avveniva tutta l'inverno perché in verano ci si muove me addirittura d'inverno le bestie feroci sono in letarga quindi il discorso discorso diventa più semplice ma annibale a questo punto alla trebbia viene deve rinunciare sembra che abbia perso l'occhio proprio nelle 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 per ragioni naturali nelle nelle deve rinunciare a scendere sul terreno attraverso i passi appenninici e del della zona di la spezia nord di la spezia e cambia programma cambia programma ben sapendo che i romani lo aspettavano qua lo aspettavano al rimini qui e allora che fa prende il discorso più rischioso che poteva prendere scende lungo la linea che poi sarebbe diventata quella della via emilia e sicuramente probabilmente affrontò d'inverno sempre la piena del parma dico questo perché negli scavi sono stati fatti recentemente nel ponte piazza ghiaia a parma a 89 metri di profondità nel fango sono state trovate e tutte le monete gettate dai viandanti che si volevano cercare il favore della divinità del fiume per poter passare uno dei corsi d'acqua più cattive più feroci ancora oggi attenzione il parma che scendono dall appennino e fra le monete che ho visto e ci sono anche monete puniche precedenti a annibale per monete che potevano e dovevano essere in mano ad annibale e che poi chi poteva aver portato dopo quindi bisogna immaginarsi annibale che aveva cercato di propiziarsi la divinità del fiume gettando le monete come veniva fatto in molti luoghi allora che abbiamo trovato poi annibale a questo punto scende arriva a bologna a bologna trova le popolazioni celtiche degli appennini della valle dell'idice della valle del reno che lo fanno passare lo aiutano e sorprende i romani che devono tornare indietro da rimini li sorprende e li batte al trasimeno e questo è il discorso poi prosegue raggiunge canne a canne si vede passare dalla sua parte tutte le popolazioni italiche nemiche di roma e ci si riallaccia a quello che dicevo prima delle popolazioni dalle città a capua e a cales e il discorso a questo punto finisce male per annibale tutti lo sappiamo finirà poi a zama nel 202 e finisce male prima ancora per capua e per le città italiche capua viene presa rasa al suolo completamente nel 212 il le città con che avevano ospitato e le cartaginesi e gli alleati dei cartaginesi attenzione che il discorso si fa estremamente completamente nuovo questo discorso e gli alleati dei cartaginesi cioè i galli evidentemente devono accettare l'occupazione dei romani l'occupazione è durissima e finisce molti casi proprio con la pulizia etnica dei luoghi e nei migliori dei casi ci c'è l'espulsione degli abitanti e il livio la racconta dove vanno questi gli italici quelli di cales pesi si collegano ai celti e puntualmente ho trovato le monete di su essa e di cales dove in emilia cioè negli anni immediatamente dopo la caduta di capua gli espulsi dalle città della campagna chiedono ospitalità al ai galli con i quali avevano evidentemente fraternizzato e durante il periodo in cui in cui erano con nibale tra l'altro ricordiamoci che in realtà nel nord i cartaginesi c'erano ancora asdrubale passa lungo il po e poi viene battuto dai romani e lascia delle monete puniche lungo il po tra l'altro in piemonte meridionale magone che vi ricorderete ancora oggi ai genovesi che dicono che viene un magone conquista genova non solo conquista genova passa risale il porcevera e passa in val padana e viene fermato vicino a dove adesso c'è pavia quindi era molto frequentato e che quel mondo comunque a questo punto il l'italici si collocano in nel mondo celtico padano attendendo che cosa attendendo i romani arrivano a questo romani arrivano sappiamo tutti a questo punto che cosa succede negli anni 90 e 196 195 194 poi 189 la fondazione di bononia e c'è l'espulsione dei boi verso oltralpe a casa andate a casa e che cosa succede succede che qualche anno fa pochi anni fa arriva una collega ungherese andiamo avanti ecco qui facciamo vedere un po di elefanti tanto per muovere un po la la situazione ecco lì quello di elefanti nella neve abbiamo avanti questo trebbia per farlo vedere ma questa è genova come via pensate il medioevo genova conquistata da magone diamo avanti ecco cosa trovo quella è una moneta di cales caleno trovati in italia gusto ellenistico ebbene nella lanza del danubio in ungheria esce una moneta d'argento targata cales che ci fanno quelli di cales nel terzo sei alla fine del terzo secolo con l'inizio del secondo avanti cristo in l'ansa del danubio facendo su carbone facendo carpatico erano quelli che erano stati cacciati dannibale e che avevano seguito i boi fino a casa lui poi la storia continuerà diventa complicata perché l'ultima notizia che abbiamo dei boi e ce l'abbiamo ad alesia nel 52 mi sembra avanti cristo e sono fra i celti che combattono cesare quindi questo è da da meditare su quanti secoli può durare l'odio fra i popoli ma riprendiamo il discorso avevamo lasciato i i gesati li avevamo lasciati a a classidium a casteggia 222 ma io ho avuto quando ero piccolo ho scavato a chiaramente parlo di 55 anni fa ho scavato in lomellina e lomellina vediamo la prossima quindi andiamo avanti ecco in lomellina ho avuto la fortuna un inciampato in una necropoli celtica una necropoli celtica è garlasco e questa necropoli celtica mi è diventata mi è parsa talmente difficile non riuscivo a sistemare nessuna tant'è vero che sto adesso pubblicando i materiali hanno atteso nel cassetto per per 50 anni con poche indicazioni che non riuscivo a sistemare assolutamente queste forme assolutamente strane a tutte quelle della lomellina e del piemonte della lombardia occidentale che però un certo momento mi sono guardato intorno e ho scoperto che sono dell'oltre poco la vattarella poi dice poco probabilmente all'archeologo dice molto abbiamo le stesse brocche a beccuccio cilindrico biconiche che abbiamo e questo punto mi sono chiesto è una cultura tra l'altro che compare alla fine del terzo e scompare nella prima metà del secondo con pochi documenti intorno simili andiamo avanti e che ha lasciato un documento estremamente interessante se andate nel piccolo museo di casteggio castiglio trovate una testina di bronzo che sembra asterix veramente a vederla siamo tra la tra terzo e secondo secolo avanti cristo probabilmente era il pomolo di una spada anche come e come dimensione vi vedete la resa grafica anche qui ho avuto l'idea andiamo a vedere in ungheria e mi esce fuori quel signore la che chiaramente parente e a questo punto beh il percorso che mi usciva era un processo chiaro qui era la possibilità evidentemente l'archeologo sempre ipotesi poi devono essere confermati confermate per tanti soltanti aspetti evidentemente tornando data lamone ci erano collocati in quella posizione attenzione posizione assolutamente strategica perché è il passaggio dal pennino dal polcevera e dalla dall'altra torrente quello del oltre al polcevera sulla pianura che vedo una data un'ora minacciosa e il sulla sulla pianura padana quindi rimane sempre una posizione nodale e erano stati messi probabilmente dei centi stessi a presidiare un punto estremamente delicato della pianura padana cioè il punto dove più facilmente s'arrivava dal tirreno sul po vedremo poi come il discorso si ripeterà dopo con i romani è chiaro che erano la alla battaglia di clasidium e probabilmente erano stati deportati e eliminati fisicamente dai romani dopo la battaglia di clasidium e noi sappiamo quello che poi successe dopo in quella zona vedete c'è questa queste possibilità di collegamento delle storie d'europa è veramente straordinario ma andiamo avanti i romani a questo punto vincono le guerre galliche non c'è dubbio una dopo l'altra le popolazioni celtiche della val padana si piegano ai romani i romani si fermano al po con solo delle teste di ponte in corrispondenza di cremona o di piacenza oltre il po per controllo creano una serie di stati satelliti tra il fiume e le prealpi ricordiamoci che le prealpi si presentano con pareti scoscese curate in castelmarte tanto per intendersi cioè le prealpi nascono dalla pianura in termini violenti potremmo dire usate e si pongono il problema di organizzare prima di tutto la messa in sicurezza del territorio e poi la progressione della conquista in tutte le direzioni e a questo punto che cosa diventa impellente diventa impellente un sistema stradale che viene pensato per ragionibilità questo sì ma in termini tali da diventare poi l'asse principale per gli interessi economici di organizzazione della pianeta e allora viene fatta creata la via postumi e abbiamo postumi e siamo intorno alla metà del non bisogna mai credere l'anno preciso in cui viene fatta la via perché c'erano discorsi era lungo e c'era la decisione del senato poi c'era il finanziamento e poi c'era qualcuno che rubava i soldi e poi c'era come come oggi esattamente quindi quindi comunque poi la 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 via postumi e viene creata ma la via postumi deve essere sicura e allora cosa viene fatto beh pulizia etnica nel vero senso della parola e gli statielli che poverelli abitavano qui e che magari erano anche gli stessi gesati senza armi forse questo difficile saperlo vengono attaccati massacrati venduti come schiavi anche se erano stati negli ultimi scontri alleati dei romani tant'è vero che protestano mandano gli ambasciatori a roma e roma al senato richiama il proprio comandante la e li costringe lo costringe a restituire agli statielli quello che era loro poca roba rimaneva e lui però li trasferisce non si sa dove quindi e quindi viene liberato questo settore qui poi vedremo cosa succede ma come si fa ad arrivare qui a passare qui qui sopra l'uni cos'è ci sono gli apuani massacrati metà trasferiti e metà massacrati o suicida e poi naturalmente bisogna sistemare qui e qui viene detto che cattivoni arrivano e i norici nel 186 avanti cristo e che decidono di fondare una città nella zona di aquileia sì ma qui lei aveva ridotta cinque anni dopo anche in questo caso i quelli che che cali transgressi in venezia viene detto vengono vinti militarmente e poi viene detto dalle fonti romane che vengono convinte ad andarsene ma archeologicamente non sembra noi vediamo invece che rimangono e finalmente capiamo che cosa sta succedendo ed entriamo nel secondo discorso di cercherò di farlo veloce beh i romani si accorgono che hanno preso batoste nell'era di dio da 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 annibale hanno pochi uomini sono in un terreno insicuro e che cosa escogitano escogitano una cosa molto semplice abbiamo vinto carni perché sono i cavi beh a questo punto saranno loro a proteggere il nostro confine li paghiamo forma di mercenaria e nasce un territorio che avrà diritto a portare le armi anche fino all'età augustea mentre tutti gli altri non potevano evidentemente e che rappresentano il primo degli stati cuscinetto che vengono creati dai romani in area prealpina cioè i romani hanno gli stati satelliti celtici libici insubri cenno mani o cenno ma hai capito dove alla cento e veneti e poi dove iniziano i le prealpi hanno le grandi valli insieme le grandi valli che sono tutte abitate la popolazione indipendenti fra di loro perché la comunicazione è difficile fra valle e valli e che in certi casi raggiungono il confine con un passaggio senza ne sono pochi passaggi abbiamo il brennero abbiamo quello di tarvigio e poi abbiamo il brennero poi abbiamo il lottardo abbiamo il sempione e l'albula e poi si finisce addirittura il gran san bernardo e al piccolo san bernardo quindi su una distanza enorme abbiamo 56 valli poi c'erano dei passaggi ma d'alpinisti che non contavano molto da questo punto di vista e se noi esaminiamo la situazione vediamo che si organizzano delle valli che per la natura geologica dei luoghi normalmente si chi sono impraticabili a oriente e ad occidente chiuse e finiscono in laghi allungati impraticabili lago di como è una è un blocco non si va a sud e queste realtà vengono ben pagate perché dico questo è perché me ne sono studiata una bene adesso appunto l'articolo che sto per consegnare ed è quella di quello che io chiamo il andiamo avanti il ridotto leponzio ecco siamo qui vedete c'è l'ago maggiore e qui c'è l'ago maggiore vedete qui c'è il soce che va al sempione qui abbiamo il locarno col taggia con la magia è chiuso sbarrato verso per 25 notte una valle chiusa 100 anni in senso passo 2300 l praticamente noi abbiamo un territorio assolutamente sicuro assolutamente sicuro che risaliva fino alla fortezza di bellinzona bellinzona è un blocco ricordiamoci quello che vediamo oggi perché completamente diverso da quello che vedevano i romani perché il piano il piano di magadino quindi ancora adesso c'è paludere e quindi abbiamo quello che è una realtà tale ponzia erano delle leponzio anche gli altri probabilmente probabilmente i leponzio del ridotto che poi andava fino a domodossola evidentemente di bellinzona del tocce si è messo subito d'accordo con i romani mentre gli altri sono rimasti indipendenti tant'è vero che nel trofeo della turvi sono citati gli ponzi tra i popoli vinti dalla dai romani e noi abbiamo una società prospera cioè noi abbiamo un mondo che compra argenti che pieno di moneta anche d'argento che mette nelle tombe e che dimostra di avere una ricchezza la disponibilità economica proprio che dipende dalle finanziamenti dei romani dipende dei pedaggi perché esempio ne viene utilizzato a a nord del semplione abbiamo la stessa circolazione monetale che abbiamo a sud del semplione quindi eventualmente c'era un flusso uomini merci denaro e poi le ricchezze minerarie sono ancora oggi no credo che sia tutto fermo comunque allora le ricchezze minerarie erano estremamente ma andiamo avanti vediamo un pochino di più di questa ecco la parte per faccio vedere questo perché noi abbiamo soprattutto quello in alto non sottovalutiamo le alpi un mondo ricco mondo ricco e sicuro soprattutto e per passare le alpi bisognava pagare e le alpi sono dei pochi distretti d'europa che fanno moneta d'oro in questo periodo ma andiamo avanti ecco qui vedete il ridotto e vedete qui il discorso come si definisce qui abbiamo lo sbaramento alpino non si passa chiuso qui la parte sud si chiudeva sotto lago d'orta lago d'orta all'emissaria che va a nord non va a sud ricordiamoci finisce nel toccio quindi una cosa che pochi si ricordano ma che ma andiamo avanti ecco qui abbiamo la foto aerea della parte occidentale del ridotto di del toccio del ridotto le pozze andiamo avanti ecco qui abbiamo più visibile con le creste alpine molto chiara diamo avanti ecco questa è la situazione che abbiamo a bellinzona qui ce l'abbiamo il toccio questa è la situazione in età romana probabilmente delle foci del toccio che adesso sono interrate con il ornavasso e allora era una piazza forte evidentemente per grande alla posizione chiave tra l'altro per controllare la possibile sono un punto debole la possibile penetrazione da sud sul toccio questo è il percorso che va al semplione da questa parte la necropoli di ornavasso e di mergozzo nelle popoli di ornavasso sono tra le più ricche delle alti ma vediamo qualche cosa gente che si poteva permettere di far arrivare da quileia i monili di ambra questo museo di torino questa è ambra e queste erano cose che costavano l'era di dio allora non erano da parte di tutto si parla di un'epoca a questo punto immediatamente pre auguste siamo nel primo secolo un discorso che finisce malamente in un certo senso nel 16 9 avanti cristo con le guerre auguste di conquista delle alpi e quelli oltre il confine vengono sottomessi con le alco con le armi quelli a sud del confine vedevano rinunciare finanziamenti perché non serve più avere in gran parte si arruolano tra le ausiliari romani per impi camuni diventano ausilari romani subito dopo per fanno messere delle armi vediamo come vediamo avanti ecco noi troviamo che questi gruppi hanno molti punti in comune fra di loro l'armamento gli ornamenti il pugnale tipo l'overe attenzione tipo l'overe chiamato o tipo introbio e quindi avevano culture dire che erano stessa cultura e troppo però avevano delle collegamenti culturali fra di loro connessioni che risultano chiare andiamo avanti avevano l'uso di questa enorme fibula che serviva probabilmente doppia si aveva una fibula grande una fibula piccola per stringere probabilmente un mantello femminile quando è doppia come figura sono così queste figure queste dimensioni e poi avevano un'altra cosa con le quali probabilmente entrerò in duro fare un duro scontro la colpi d'accetta con i miei colleghi non tutti che non sono il solo noi abbiamo questo adesso vorrei farvi vedere il contributo di una mia collega paola piana agostinetti che ha fatto l'ultimo contributo che ho avuto in bozze a questo punto e si chiama l'ascia rotante del come arma dei popoli alpini è un ascia da lancio sono piccole accette vedete le dimensioni lunghe 10 centimetri 12 centimetri troppo piccole per essere usate per lavori di carpenteria sul legno e sono da lancio la paola addirittura si è messa d'accordo con un collega di aerodinamico del genere e ha stabilito tutti tutte le modalità di uso perché veniva lanciate poteva servire per un tiro diritto attenzione quindi con scarico addirittura fino a 20 metri quindi poteva abbattere una persona a 20 metri attenzione che questo è un'arma ideale per il combattimento singolo per combattere truppe a cavallo per esempio si può colpire il nemico prima di essere raggiunti dal nemico non solo si butta l'accetta e poi la si raccoglie la si usa di nuovo e poi sono i soli anche gli indiani la vedono e ancora oggi c'è una attività sportiva agonistica con lancio dell'accetta e poi ricordiamoci che un visconti perché poi continua diventa l'arma è ideale di tutte le popolazioni germaniche è un visconti che viene non del minore e che viene contadinaccio e viene assoldato da un signore della guerra da un capitano di ventura nel cinquecento che mette tutti i contadini in fila e da loro lascia e dice prendete quell'albero è luigi per l'anno intendo però la in fondo tutti ridono lui lancia la accetta e dopo tre mesi comanda lui il gruppo ecco questa questo lo sappiamo che ci viene scritto e noi abbiamo questo discorso che un discorso che è potuto sviluppare estremamente interessante andiamo avanti a questo punto trovo legge lascia ecco poi naturalmente qualche volta l'accetta era più più consistente e allora veramente serviva da ascia da battaglia non lanciata evidentemente questo è un un corredo di il corredo 100 161 di san bernardo di ornavasso e qui vedete ci sono le monete sono infatti di bro c'è l'argento star pieno di soldi siamo nel primo secolo avanti cristo e questo viene pagato dai romani tranquilli bisogna dire che i romani hanno fatto bene perché dal sempione non è uscito nessuno non è sceso nessuno a minacciare il muro oppure lo hanno fermato da altri passi sì i cimbri sono scesi dal brennero i reti che permette era una popolazione che stava tutta sotto il crinale alpino scendono dalla valle dell'ada lungo il lago di como e qui salta fuori un altro dato nuovo beh i reti distruggono come un vetus quale con un vetus non è altro che il centro di l'antemurale di milano cioè i comaschi fanno un fermano i reti la pagano cara evidentemente ma poi successivamente e l'amico luraschi perché non amava i celti amare i comaschi lo ha sottolineato in modo splendido hanno favori da parte dei romani incredibili hanno tra l'altro la presenza di truppe mercenari e per la protezione della città la città viene costruita ex novo in posizione difficile e quindi vengono ripagati del buon servizio che avevano fatto proteggendo lo stesso discorso un certo momento per i salassi i salassi scendono dalla dora e nessuno li ferma bisogna arrivano fino a vercelli in pratica per essere fermati dalla dal lago maggiore no non abbiamo notizia di cose di fatti pericolosi ma andiamo avanti credo che sia finito questo punto ecco vedete qui questa l'accetta moderna ad amazon la comprate mi sembra per 30 euro penso che possa servire molto bene per qualche unicidio ovviamente ed è conformata calcolata appunto per affrontare affrontare il volo in modo da piantarsi nel modo giusto dove deve essere vedete che è presente nei correnti un altro corredo con l'accetta quello un altro corredo ancora con l'accetta cioè faceva parte della panoplia normale del guerriero le ponzio e non solo le ponzio perché a lovere nel 1907 è stata trovata l'accetta lascia da lancio esattamente identica nella piana di val trebbia anche la esce quelli sono liguri liguri appenninici e poi la tradizione lunga andiamo avanti questo di quando è e bormio ma il soldato qui il milite all'accetta eccola in questa posizione si legge male ma la porta come strumento militare ecco se si pensa che normalmente la presenza dell'accetta nelle necropoli viene intesa come documento di attività di pace di lavoro sul legno di carpenteria si capisce che magari si facciano le casche evidentemente ma non con queste accette ma abbiamo l'interpretazione di queste culture che sono culture duramente militare ferocemente militari in termini completamente errati vediamo se c'è qualcosa d'altro non credo no ecco grazie fortificata e dall'altra parte pavia fondamentalmente e come faceva vita a sé in un certo senso io la vedo così ecco so che altri la vedono in modo diverso evidentemente per fortuna abbiamo sempre opinioni contrastanti e no e no e no se il i reti i insubri come se non può dire così beh attenzione dobbiamo vedere se gli insubri combattevano loro perché il discorso del mercenariato funzionava anche a livello interno e la gestione delle popolazioni del ridotto del tocce probabilmente è partita dagli insubri il problema è che gli insubri erano ricchi e tra l'altro gli insubri noi non sappiamo assolutamente come si organizzassero i gruppi celtici erano probabilmente di tipo tribale abbastanza ridotto c'erano gruppi piuttosto poco consistenti di uomini con forme di predominio di un gruppo per cui alla fine uno si faceva anche l'impero coprendo e l'impressione che si ha è che i comenses abbiano subito la presenza della copertura degli insubri tant'è vero che c'è una cosa che l'ho sempre pensato e perché Marcello e i romani quando vogliono prendere Milano passano sempre da sopra e poi li trattano bene chiedo scusa perché i comenses probabilmente erano nello debole beh è una delle ipotesi però nel momento in cui i reti si fermano a Como ebbene c'è un passo allora non è vero c'è un passo di titolico dove parla noi si si confitta dei comenses però vengono fermati il mio è semplicemente un sospetto il sospetto è legato al fatto che Como è una piazzaforte Como è il la città prealpina possiamo dirlo chiusura una linea di penetrazione pericolosissima che viene continuamente rinforzata dai romani sono due prima 3.000 e poi 5.000 ausiliari ma questo dopo la conquista ma prima cioè non viene il gruppo di romani non vogliono affrontare i misuri ma li agirano dando a coprire come si erano più deboli qui è il mio pensiero beh si erano più deboli però sono passati io non voglio dire che stiamo dicendo la stessa cosa fondamentalmente non hanno voluto affrontare i suoi indirettamente beh era anche più difficile era più difficile perché prendere Milano da sud fino al 500 era un problema perché era tutto palude quindi il Milano viene presa o dalla parte bergamasca o da nord all'asciutto fondamentalmente io sono sempre stato colpito dal fatto che il Como viene distrutta viene aiutata poi perché l'impianto della città è costoso è una cosa importante e poi ha sempre un trattamento veramente di favore da parte del potere anche i milanesi quindi quindi però in modo particolare almeno questo come nello Debole avevano avevano un territorio assolutamente difficile perché il territorio di Como era un territorio che era non tanto di pianura quanto di montagna quindi c'era un territorio che poteva difendersi a nord secondo me a nord era diciamo erano soprattutto nella parte verso la Val d'Integna vedrei ma probabilmente anche dall'altra parte verso Erba che poi bisogna vedere i castelli da che cosa erano legati perché noi non sappiamo io ero mentre secondo me ero intorno alla parte ma sì ma soprattutto in montagna soprattutto in montagna perché non ma forse sì anche sono cose che abbiamo delle indicazioni letterarie da questo punto di vista estremamente varie comunque a Como viene dato anche anche Milano combattente cioè nel racconto della della disunzione di Como viene vista anche l'intervento di Milano comunque a me interessava la posizione di Como come chiusura del bacino del lago e dell'atta perché in realtà quando si arriva a Como non si passa né a destra né a sinistra è un imbuto come è un imbuto il canton di Cina come è un imbuto il lago di Zeo c'è questa natura delle alpi che creano questi imbuti con situazioni di 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 montagne di crinali di montagne che dividono una valle dall'altra che poi si indica un esito preciso nella documentazione latina sulla classica sulla diciamo polverizzazione dei gruppi dei gruppi alpini alla terubis metà di mille quindi è chiaro che dal punto di vista concreto quando arriva il Consolo Marcello ad esempio il triangolo avriano viene preso dai dei romani quindi diciamo che sopra i laghi briantei diciamo i romani fino all'arrivo di augusto no probabilmente li pagavano probabilmente li pagavano diciamo la presenza romana nel cango ariano da Marcello no non abbiamo notizie non ci sono no cioè il confine passa là quali confine l'anti probabilmente a metà dell'ago di Como perché poi ricordiamoci che i romani organizzano la flotta subito ma quelli probabilmente erano fuori portante io li vedo così più che altro guardando il territorio il territorio va fatto camminandoci sopra dal punto di vista sono molto curioso cioè fra la conquista di Macello dal punto di vista diciamo ed Augusto sopra i laghi briantelli quindi nel triangolo per esempio pomo pomo letto bellaci questo triangolo la presenza romana in questi due secoli la presenza romana ha strutturato qualcosa una roba sporadica una roba sporadica fondamentalmente situazioni come quelle del tocce o di lovere per esempio sono situazioni che indicano una particolare concentrazione anche di potere economico poi abbiamo anche situazioni legate alle alle miniere tutto il discorso di parre o di clusone è legato al discorso minerario e tra l'altro con una situazione di parre che è di indipendenza siamo alle porte di addirittura potrebbe essere di indipendenza prima del delle guerre augustee addirittura nave che ha le porti di Brescia e che ha una dimensione in età augustea ha una dimensione indigene impressionante comprese le asce quindi diciamo sempre legato assolutamente sì anche perché obiettivamente non si è passata poi il periodo si ripete anche dopo quindi tutto il discorso il fortificatorio delle delle grandi valli e dei grandi fiumi parte il fatto che c'erano più laghi di quelli che ci sono oggi che abbiamo visto a Bellinzona o Altoce che poi si ripete a Lago di Como si arriva a Samolacco addirittura quindi bisogna cambiare punto di vista da quel punto e tutte le volte che c'era un lago profondo e stretto con rive scusciese e senza anche era difficilmente superabile anche perché la gente poteva scendere dall'alto mentre viste dal basso un'altra domanda un'altra domanda il tipo linguistico dio mia attenzione che noi abbiamo la parte iniziale la parola luganica salame che sa lusio dice chi viene dal canno mi piace anzi mi piaceva prima che mi mettessero la dieta ma no no sì qui siamo in epoca l'uso del tornio normale materiale cos'è ceramica terracotta diciamo che qui non abbiamo abbiamo l'età romana comincia la decorazione a vernice nera che è una tecnica ceramica però e poi a vernice rossa questo piano di ammino un anno avanti sono cose che magari non ricordo bene però che magari con gli anni fino ad arrivare al 100% dopo Cristo hanno anche delle tecniche decorazioni sono tecniche anche precedentemente sono particolarmente anche raffinate e complesse le in vetriature sono note da epoca molto antica proprio con la copertura a vetrina comunque ci sono specialisti fra di noi che lavorano solo su quello si può anche su internet magari servire con internet internet è una cosa molto pericolosa nel senso che no attenzione noi lavoriamo su internet però bisogna stare molto attenti bisogna anche va addirittura se volte a naso capire cosa si può tenere e che cosa non si può tenere forse o accademia edu prende accademia edu e la trova già una situazione che al 98% è sicura avevano già una concezione artistica di alto livello io io ma da millenni presi mi interessava sapere se non ci si con l'interesse ma visevano si 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 sposte no esposte bisogna esposte a visevano esposte di che cultura appunto appunto 50 anni sono rimasto risotto no penso davvero risotto cioè penso veramente che sono vicini ai gesarti o qualcosa di genere è una cultura molto cattiva molto povera non hanno verice nero poi non guardiamo mica poveri qui come raccoglievano ed arenavano i soldi che potevano quando arrivano qui sono pieni di soldi che sono stati pagati dai bizantini i bizantini li mandano subito in Gallia dove saccheggiano e ritorno pieni di soldi presi in Gallia poi li spendono non avevano buona amministrazione cioè compravano cose costose probabilmente a prezzo maggiorato l'ingrogliavano anche chiedo scusa la popolazione assorbe la cultura romana attenzione la popolazione i romani erano bravi nel senso che la popolazione diventa ricordiamoci che nel mondo antico attenzione che nel mondo antico non si distingue razza lingua colore quello del genere il discorso è costantemente giuridico cioè chi diventa cittadino romano può avere qualsiasi colore qualsiasi religione tranne un piantagrane che faceva cristiano ma questo è un altro discorso ed era cittadino romano noi abbiamo gli imperatori che non sono di razza latina come usanze era come noi usiamo ci stiamo americanizzando sistematicamente e faceva chic questi che ho fatto vedere ho visto che ci sono tradizioni celti che sono rimaste ancora ma c'erano anche tradizioni celti che passavano i romani è un po' come la pizza ecco diciamo intendevano inglob le popolazioni si sentivano ma le popolazioni volevano diventare romani però evidentemente se c'era la nonna che voleva farsi la cioccolata in un determinato modo continuava a fare il moda poi la nuora evidentemente se ne dimenticava e compravano Coca-Cola come succede oggi signori grazie 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 a tutti